Oggi siamo sulla strada del vino e dei sapori e vi diamo il benvenuto alla Casa Sola. Oggi vi prepareremo i gnocchi ripieni di Speck di Sauris, riserva, che si chiama Nono Bepi, affogati alla salsa verde di Pradis. Gli ingredienti sono patate, farina, uova, il formaggio verde di Pradis, che è un formaggio arborinato, e la panna, panna fresca. Andiamo a bollire le patate con la buccia, dopo spellate, le schiacciamo e prepariamo l'impasto dei semplici gnocchi. Dopodiché facciamo un rotolo, tagliamo a rotolini più grandi e riempiti con il Speck di Sauris. Quando gli gnocchi vengono a gala, vuol dire che sono pronti, li saltiamo nella cremina preparata prima con il formaggio verde di Pradis e un po' di panna. Dopodiché andiamo a impiattare gli gnocchi. Buon appetito! Vi aspettiamo qui alla Casa Sola per farvi assaggiare la nostra passione per il territorio. Buon appetito!